Le principali meraviglie naturalistiche del territorio di Pesaro Urbino riunite in un unico strumento rivolto agli escursionisti. Parliamo della nuova carta dei tre parchi, che raccoglie informazioni sul parco naturale del Monte San Bartolo, su quello del sasso Simone Simoncello e sulla riserva naturale della Gola del Furlo. Una sorta di va de mecum per scoprire cosa c'è da scoprire, da vedere e da gustare nelle zone attorno alle aree.